Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida che richiede di utilizzare una zipline da corso commercio, quindi qui, a Foschi Fumaioli. Sembra difficile ma è molto semplice. Vedete che ci sono delle zipline che collegano Foschi a corso. Dovete praticamente partire dalla prima, cioè è molto semplice, anche perché non c'è una zipline che collega direttamente corso a, diciamo, Foschi. C'è un'unica zipline. Vi sono queste zipline, cavi della corrente, che collegano le due località ma sono separati, vedete? Quindi la sfida non richiede di utilizzarle senza cadere, senza, diciamo, atterrare sulla base. Dovete semplicemente partire da corso commercio e arrivare a Foschi Fumaioli. Vedete c'è già la prima zipline qui? Cioè non è che dovete atterrare qui perché altrimenti la sfida non ve la conta. Dovete partire proprio dalla base, qui, dove c'è questo centro commerciale, qui, dove ho messo anche il segno io, vedete? Qua, adesso ve lo mostro bene. Cioè dovete partire proprio da qua. Vedete? Qua, praticamente. Ecco qua, da questo punto qua dovete partire. Quindi voi iniziate e usate la zipline. Naturalmente, come vi ho detto prima, non è continuata la cosa. Quindi arrivate qui e usate l'altra zipline. Dovete arrivare a Foschi Fumaioli, quindi potete farlo in qualsiasi modalità, non è un problema. Non dovete saltare. Vi basterà, diciamo, raggiungere l'altra zipline, guardarla e premere il tasto. Vedete? Cioè è molto semplice. Dovete solo sperare che magari strada facendo non c'è qualcuno che vi ammazza. Allora dovete ricominciare da capo perché la sfida richiede di raggiungere Foschi con le zipline. Quindi dovete fare in questo modo qua, come vi sto mostrando io. Assicuratevi però di partire dall'inizio, cioè da dove vi ho mostrato, perché altrimenti non funziona. Inoltre non penso che funziona al contrario, nel senso se partite da Foschi andate a corso. Io penso che dovete partire da corso e arrivare a Foschi, come indicato poi nella sfida. Vedete? Cioè è molto semplice come sfida. Potete farla in qualsiasi modalità. Quindi assicuratevi di prendere tutte le zipline, senza morire ovviamente, partendo dall'inizio. E non appena arriverete qui la sfida verrà completata.